Cento candele per l'atmosfera, mille riflessi negli occhi tuoi, sopra ogni muscolo della schiena e su di noi. E' l'amore. What? Dime quando, quando, quando? Ok, дорогие друзья, в этом film'e я расскажу вам о городе Рим. noi viviamo in diversi locali di questo vecchio giovane, in locali che i nostri scrittori amati, e spero di sapere questo giovane. Poi, dopo il passaggio di Egipto, sicuramente, era facile fare in Grecia, ma io ho deciso di arrivare a Rima e incontrarsi a questi stessi, a questi stessi stessi. Il centro Rima Nalivo da me è Colisei La дорогa, che stava con le grandi stagioni per cui le dalle rime è stato il centro Rima è stato un'altra parte che si vedeva la prima volta in cui erano le rimei Cento candele per l'atmosfera, mille riflessi negli occhi tuoi, sopra ogni muscolo della schiena e su di noi. Il vento caldo di questa sera porta al profumo dolce di un'occhidea, il movimento che già ci lega è una marea che ci fa salire in alto, così.